Correggimi se sbaglio, ci ha messo un po' più del previsto la Fiorentina lasciarti venire qui, perché erano settimane che c'è qua. No, sì, diciamo che già da due o tre settimane, prima dell'inizio del campionato, c'era questo mezzo accordo e stavamo aspettando solo le due società che si mettessero d'accordo. Poi si è infortunato Peziella laggiù a Firenze, quindi sono dovuto rimanere finché lui non si ristabiliva, però l'accordo c'era già insomma. Perché hai voluto scegliere Verona tra le opzioni che avevi? No, diciamo che oltre ad essere una grande piazza, l'altro anno già a gennaio ero stato molto vicino a venire qua, perché il direttore e il mister mi avevano cercato fortemente, poi a Firenze c'è stato un cambio allenatore e alla fine sono rimasto. E poi perché anche quest'anno all'inizio è stata la prima squadra a volermi, io quest'anno ero molto più predisposto a cambiare squadra per provare una nuova avventura e ho visto la loro voglia di volermi qua e ho subito detto al procuratore che la mia prima scelta era venire qua. Iurice gioca prevalentemente con una difesa a tre, ti chiedo dove ti vedi nei tre, cioè in quale dei tre ruoli? Di solito ho sempre giocato a destra o a sinistra, poi l'altro anno invece ho giocato anche tanto centrale. Diciamo che li posso fare tutti e tre, però preferisco giocare o a destra o a sinistra. Gianluca Tavellin, l'Arena. Ciao Federico, benvenuto. Innanzitutto ti chiedo una cosa, se fra colleghi vi sentite, se hai idea che si possa giocare questo benedetto Verona Genoa, visto che i giocatori rosso-blu sono ancora tutti positivi, cioè che idea hai di questo Covid? Noi pensiamo ad allenarci e che la partita si giocherà, poi c'è questo decreto e vedremo come vanno le cose. Noi lo rispettiamo e ci stiamo allenando come se la partita ci fosse senza crearci problemi di quello che potrebbe succedere dal lato Genova. Noi pensiamo a noi e basta. Conosci qualcuno dei giocatori dei tuoi nuovi compagni di squadra? Sì, conoscevo già, oltre a Benassi che viene come me da Firenze, conoscevo già Faraoni, che ho avuto la fortuna di giocare a Cicrotone e per Eura a Livorno ci avevo giocato. Faraoni vi ha fatto un gol strepitoso. Sì, mezza rovesciata, me lo ricordo. Su assist di Amrabat. Un'ultima per me, l'anno scorso la difesa del Verona a un certo punto è stata se non la migliore tra le prime tre d'Europa e quindi per voi che siete arrivati quest'anno, non soltanto te, penso a Cetti, Magnani e tanti altri, è una bella responsabilità? No, sicuramente è una bella responsabilità, c'è tanto da lavorare perché ovviamente veniamo da squadre diverse, il mister ci chiede cose diverse, ci sarà da abituarsi ma credo che tutti siamo in grado di poter fare quello che il mister chiede e sono convinto che possiamo far bene. Riccardo Catturano, Telenuovo. Ciao Federico. Ti chiedo cosa significa per te arrivare qua, oltre ovviamente a cambiare piazza, a trovare nuovi stimoli perché nonostante comunque siete una difesa in linea di massima abbastanza giovane anche quest'anno, tu arrivi qua che sei uno dei difensori più esperti, quindi ti chiedo se avrai anche questo ruolo di responsabilità come magari abbiamo chiesto ieri a Kalinic per quanto riguarda l'attacco. Ti chiedo questo e appunto anche te che idea ti sei fatto appunto del Verona anche lo scorso anno avendo anche compagni di squadra come Casares che hanno già giocato qua, insomma anche come Amrabat che è arrivato nuovo se ti hanno detto qualcosa e se ti può aver influito per arrivare qua, ecco, grazie. No, Amrabat, ti rispondo subito che mi ha parlato benissimo della piazza, del mister, però ovviamente non solo lui, conoscevo altri giocatori e tanti mi hanno parlato bene del mister e della piazza. Poi arrivo qua e per me qua è una grandissima occasione per rilanciarmi perché insomma sono stato due anni a Firenze e ho giocato poco anche per merito degli altri diciamo perché insomma avevo tre difensori davanti importanti e è stato difficile trovare sparsi o anche se sono riuscito comunque in due anni a fare un anno 18 e un altro anno quasi 20 presenze con tre difensori forti davanti a me, quindi non è andata poco così male. Vengo qua e è una grande occasione per me, ho tanta voglia di rilanciarmi, poi sento tanto la fiducia del mister e del direttore che mi hanno voluto, voglio solo allenarmi e fare il massimo per i miei compagni e per la squadra. Alberto Fabri, alla slide. Ciao benvenuto anche da parte mia, ti chiedo cosa vuol dire per voi giocatori mai essere abituati a non avere il pubblico o meglio in pochissime unità, pochi fortunati che possono entrare allo stadio, cosa vuol dire anche dal punto di vista mentale questo nuovo approccio che voi dovete avere con le partite? Perché manca il famoso dodicismo uomo in campo. Sì, per me dico la verità il calcio senza tifosi non è calcio perché ti manca tutto, è vero che l'adrenalina si crea per la partita però con i tifosi, con il loro calore è tutto diverso, ti danno quella carica in più soprattutto in casa che ti spingono nei momenti difficili. E adesso quella carica devi trovarla dentro guardando i tuoi compagni o in situazioni di difficoltà che cerchi il tuo compagno per cercare quello stimolo in più per far meglio, è diverso insomma. Che effetto ti fa ritrovare in Giallo Blu un giocatore che tu hai avuto come compagno a Crotone come Davide Marco Faraoni che da mio punto di vista è una delle frecce più importanti sul palcoscenico italiano? No, sicuramente, infatti gli ho fatto subito i complimenti, l'ho sempre sentito, sono sempre tenuto in contatto con lui perché aveva un bellissimo rapporto a Crotone, stavamo spesso insieme, ha fatto un bellissimo campionato lo scorso anno e lo vedo benissimo, sono contento di averlo ritrovato qua, anzi mi ha dato subito qualche consiglio per aiutare ad ambientarmi il prima possibile. E' arrivato come ultimo colpo di mercato, un colpo con la C maiuscola, ovvero Nicola Kalinic che proprio nella tua Firenze fino a pochi giorni fa aveva recitato una parte della protagonista, ti chiedo che effetto ti fa ritrovarti un campione di questo calibro nell'ospedatoio, tu che comunque ne hai avuti tanti altri, e che cosa hai imparato subito di Mister Iuric in questi primi allenamenti? Allora, per quanto riguarda Kalinic ho avuto la fortuna che eravamo nel solito hotel, quindi ci siamo conosciuti prima del nostro primo allenamento insieme, mi sembrava un bravissimo ragazzo che ha voglia di lavorare, ha voglia di ritornare a far gol e ad essere protagonista, e sono convinto che potrà dare una grande mano alla squadra. Sul Mister l'approccio al modo di lavorare mi avevamo parlato che era molto diverso, si lavora molto duro, però poi tutti mi hanno parlato dei benefici che poi ne ritrae in partita, lui è uno tosto, uno schietto, sono contento perché preferisco persone così, ho sempre preferito circondarmi di persone così che ti dicono le cose in faccia ma che ti rispettano. Luca Chiarini tutto a mercato web Ciao benvenuti innanzitutto Grazie E restando sul tema Juric, lui è un allenatore che chiede molto ai suoi giocatori come abbiamo già detto e che soprattutto per quanto riguarda i nuovi arrivi insiste molto sul concetto del ritmo. Ti chiedo, tu fisicamente come ti senti? Ti senti già allineato rispetto ai ritmi che sono molto alti che chiede il Mister o pensi di dover lavorare ancora un po'? Allora, pure giocando tutte e tre le partite che ho giocate sempre a Firenze le prime tre ho notato che qua i ritmi sono molto più alti rispetto agli allenamenti, si controlla praticamente tutto. È normale che devo riuscire in poco tempo ad assorbire il lavoro diverso che il preparatore e il Mister fanno fare agli altri perché è un lavoro un po' diverso. Però in questi due giorni mi sentivo bene fisicamente, ho lavorato sempre con la squadra, ho completato sempre tutti i lavori, tutti gli allenamenti senza problemi. Poi ti chiedo, hai qualche rimpianto, è un tema che hai già affrontato qualche minuto fa, però hai qualche rimpianto in particolare legato al tuo periodo a Firenze? Pensi che avresti potuto fare meglio o senti di aver dato il massimo e quindi arrivi qui senza particolari rimpianti? Diciamo che non voglio darmi alibi, le colpe se non ho giocato sicuramente erano mie, però ho avuto anche un po' di sfortuna che ho trovato tre difensori davanti a me, tre nazionali, il capitano. Insomma, erano tre buoni difensori che, a detta mia, potrebbero giocare benissimo titolari in qualsiasi squadra di Serie A, comprese le big. Quindi non era facile trovare spazio in una squadra così. Tommaso Badia, CalcioEllas. Ciao, benvenuto. Grazie. Volevo chiederti, insomma, visto che abbiamo visto questo numero 17, se ha qualche significato per te o se, come ho detto ieri Nicola, era uno dei pochi liberi. No, per fortuna era libero perché è un numero che mi ha accompagnato quasi sempre, l'ho cambiato solo due volte nella mia breve carriera. E' un numero che mi ha fatto scegliere mio nonno il mio primo anno da professionista a Livorno e da lì ho sempre cercato di prenderlo quando era libero. Poi volevo chiederti, insomma, sei qua da poco, però magari hai avuto già modo di visitare un pochino la città, visto che tanti giocatori anche che arrivano da Firenze dicono che Verona è una piccola Firenze. No, per adesso, solo oggi, oggi sono riuscito a fare un giro in centro storico, poi sono dovuto venire qua e devo vedere qualche casa e in questi giorni sicuramente farò più giri perché devo trovare casa. Però per adesso mi sono limitato all'hotel, all'hotel per riposare e basta. Grazie.